Il DG della Lube Volley Beppe Cormio esalta l'accordo tra la Lega Pallavolo Serie A e Dazon annunciato nei giorni scorsi nel biennio 2024-2025-2025-2026 una selezione di partite della Super Lega Crede Banca con protagoniste la Cucine Lube Civertenova e le altre associate della Lega Volley saranno trasmesse in live streaming da Dazon che metterà il volley al centro dell'offerta Multisport l'app di live streaming che già lo scorso anno ha seguito la campagna europea in CEV Champions League della Lube e degli altri team italiani si consolida come punto di riferimento per gli appassionati la massima serie italiana quindi è destinata ad avere sempre più seguito l'offerta di Dazon integra l'offerta disponibile e si propone come alternativa al pacchetto completo di Volleyball TV mentre resterà gratuita sul Rai Sport e la trasmissione in chiaro sul digitale terrestre di gare selezionate sono molto contento, dice Cormio, per questa nuova sinergia tra un campionato importante e una piattaforma sportiva di rilievo il torneo di Super Lega Crede Banca, tra i più belli e difficili al mondo avrà una visibilità ancora maggiore grazie all'intesa con Dazon questo ricadrà molto positivamente sulla cucina e lube Civitanova e di conseguenza sugli sponsor che supportano il club